Ciao a tutti! Ciao! State bene? Sì, state bene. Allora, facciamo la seconda parte. Seconda parte? Non si sa se sarà l'ultima, anzi, sicuro che non lo è. No, non è l'ultima. Degli orecchini che ho, però non è l'ultima. Ne farò vedere ancora. Ne abbiamo presi un po'. Ne abbiamo scelti ancora un po'. Per farle rivedere. Ok. Partiamo subito, così almeno ne facciamo vedere il più possibile. Perché sennò ci vuole tanto tempo. Allora, questi, Evelyn. Questi? Che sono in legno. Sì. Che li ho comprati dalla mia amica Daniela. Sì. Quella che ha il negozio, diciamo, con cose etniche, arredamento. E ha anche questa bigiotteria, così. Che sono molto belli. Anche anelli di legno. Andate a trovarla, che ha delle bellissime cose. Se vi piace il nostro genere, ha delle cose che sono stupende. Ha anche la pagina Facebook. Nell'info box sotto vi metto il suo indirizzo, così potete dare un'ottata. Poi ho questi in argento. Sì. Questi in argento. Questi... Siamo in cucina adesso, eh? Sì. Mi ha cambiato postazione. Siamo nella nostra piccola cucina. Poi vi faremo vedere. Questa, sempre in argento. Io le sposto per non mischiarli, perché sennò ho dovuto tirarli giù tutti e dargli una pulitina, perché facevano veramente pietà. Va bene. Così. Questi invece li avevo comperati dai cinesi. Sì? Sì, dai cinesi. Mi piaceva la lavorazione, magari d'estate o così. E mi piaceva. Se lo ho pagato a mano, quasi. Le ho pagati una cavolata. Però erano carini, con un vestitone o così. Erano molto belli. Sentite la mia Becky. La mia Becky, il mio papagallino. Si stufa ogni tanto. Quando noi parliamo, lei dà fastidio. Quelli lì sono in rame. In rame. Questi sono molto carini. È bella la lavorazione. Abbastanza grandi. Sì. E ha meglio orecchini proprio piccoli piccoli. Le metto però è proprio quella volta ogni... Questi, che sono particolarissimi. L'ho preso in un mercatino. Poi, ho questi sempre in argento con il corallo. Che sono molto belli. Poi, ho questi. Non guardate se sono proprio... Sono un po' sporchi. Perché l'argento lascia quella paccina di nero. Però io pulirli sempre. Cioè, se non le metto tanto, non sto lì. Proprio a... Questi, sempre in argento. Che hanno anche la pietra. Questi, invece, sono quelli che andavano di moda... Cosa? Sarà? Due anni fa. Due anni fa, sì. Andavano di moda. Però sono proprio quelli originali. L'avevo comprati al mare da una nostra conoscente che aveva il negozio. E allora, però, sono veramente belli. Hanno un colore che sono stupendi. Perché dopo avevano fatto le imitazioni di... Sì, ma questi erano originali. Ne avevi anche un paio. Non so se ve li abbiamo già fatti vedere. Forse no. Di un'altra colorazione più piccolini. Ne avevi presi due paio. Quelli e un altro paio. Non mi ricordo. Poi ho questi col cammeo. Poi ho questi in ottone con questa pietra che sono stupendi, secondo me. Sono molto, molto belli. Perché questi sono simili con la pietra. Poi questi invece li ho comprati al mercatino delle Elmepe. E sono tutti in argento con quella pietra qua. Come si chiama? Che c'è? C'è un cordo. Anch'io. Vabbè. Sono molto belli quelli lì. Soltanto che quelli lì sono molto pesanti. Sono pesantini. Quelli. Poi ho questi qui sempre in argento con la metrista. Questi sono molto belli. A me come genere questo piace perché è molto fine ma in argento con questa trama. Bello. Avete visto Evelica ha cambiato colore dei capelli? Come sta bene? Si sta schiarendo. Sapete che io cambio. Sì. Poi ho questi qua. Questi vabbè non sono niente di che. Con le foglioline di edera. Questi. Poi ho sempre questi in argento. Con la pietrina nera. Con la pietrina nera. Io ve li faccio vedere uno perché va bene. C'è la copia. A meno che non... Tipo questo è da solo. Quello lì è da solo. Questo è proprio da solo. Questo è da solo. C'era qualcun altro. Poi questi che sono indiani. Vengono dall'India. Il colore è veramente un colore stupendo. Questo qua. Smaltati con delle piccole perline. Belli veramente. Poi ho questi che in fondo suonano. Sono lisci. Abbastanza grandi. Abbastanza lunghi. Sì, sì. Sono molto lunghi questi. Però a me piacciono così. Anche questi sono particolari. Che hai questi. E anche questi che sono invece... Questi quelli facciamo vedere. Che è la coppia. Questa è la coppia. Perché è di una parte lungo. È lungo e uno è corto. Così. E questo verde. Questo è quello lungo. Questo. Quello cortino. E vanno messi insieme proprio la coppia. Sì. E simili hai anche questi. Sempre con la piegola. Però non è uno piccolo. No, no. Questi sono tutti e due uguali. Qua hanno la chiusura così. Molto lunga. Dietro. Si faccio così. Rigidi. Ma è un tutt'uno. Sì. Poi ho questo che è sempre in argento. Bello. Così facciamo vedere se si vede la macchiettina dietro. Poi ho questo che è sempre in argento. Poi ho questo che è sempre in argento. con le pietre. Diciamo che quelli che vanno di più sono quelli comunque in argento. Questa è una coppia. È bellissimo. Questo qua l'ho comprato al tagliaio. E' molto particolare come orecchino. Una lavorazione molto particolare. E' sempre in argento anche questo. Poi questi sono sempre in argento smaltati con il corallo. Sono molto piccoli ma sono molto belli. Poi ho questi che me li ha regalati mia suocera tanti tanti anni fa. Quando siamo andati a San Marino a fare un giro. E allora c'era questo negozio. Le pietre di fiume. Di cose antiche. E vendevano questi meravigliosi orecchini. E lei me li ha regalati. Questo verde è bello. Molto belli sono. Finissimi. Poi quelli lì sono sempre in argento. Questi. Molto belli. Molto etnici come fantasia no? Sì. Questi. Questi qua invece me li ha regalati un ragazzo indiano. Me li ha regalati lui e li ho sempre tenuti. E non sono mai venuti brutti. Ne hanno cambiato colore. E il sole praticamente. Leggerissimi. Sì. Grandi. Molto leggerissimi. Li ho sempre tenuti. Questi qua invece li ho conferati al mare. Che le faceva. Rame? Sì. Rame. Le faceva un ragazzo. Le creava lui. E allora li ho conferati. Sono un po' particolari. Sembra con la spirale così. Poi questi invece le fa una ragazza qua che fa dei lavori stupendi. Sono molto belli. È la stessa ragazza che ha fatto questo bracciale. E la collana che hai fatto vedere che gli ho regalato a Natale. È questo bracciale qua che è il mio. Questo qui. E la collana che mi avevano regalato a Natale i miei. Quella con le pietre viola molto fine e lunghe. È sempre lei che fa questo lavoro. Fa dei lavori che sono stupendi. Ma stupendi sono bellissimi. Questi l'ho sempre preso in un mercatino. Sono in argento e in corallo. Questi sono molto belli. Almeno mi gusto, mi piace. Questi. Poi, vabbè, questi qua sono dei... Non sono in argento. È una bigiotteria però è firmata. È una bigiotteria firmata. Non mi ricordo più dove l'ho presa. L'avrò presa in qualche mercatino, ma... Se riesco vi faccio vedere che c'è la... Non è una bigiotteria firmata. Comunque non sono in argento, eh. Quelli lì quali sono? Ah, sono in argento. Con la pietra grossa. Tutta la... La lavorazione. Volevo ringraziarvi per i complimenti che mi avete fatto per gli occhiali. Che sto bene. Che bella, sto bene. Che sto bene, tutto. Siete molto gentili. Sei abituata anche bene. Sì. Ci vede. Sì. Questi... Non mi ricordo più. Anche questi sono firmati, però praticamente non mi ricordo più dove l'ho presa. Se l'ho presa dalla donata, non mi ricordo più dove l'ho presa. La targhettina, c'è scritto l'idea di Airoldi. Vediamo se riesco a farvela vedere. Però non... C'hanno una rosa in pannolencio e praticamente hanno questa perlotta che è veramente bello. Non si vede molto. Se si mette qualcosa magari di rosso, di... Però non mi ricordo più proprio dove l'ho presa. Questi te li avevo regalati io. Sì, questi me li avevo regalati Evelyn. Sì, li avevo presi da Zara un'estate. Sì. E' una coppia. E' stupendo. Uno è un po' più corto, uno è un po' più lungo. Uno è fatto così. Con l'azzurro. E l'altro invece ha il teschettino. Ed è più lungo. Questi. Poi ho questi che mi ha fatto mio marito. Sono magari un po' impolverati. E perché è difficile un po' spolverarle le rose. Sì, questi ha fatto il mio marito. Me li ha fatti lui. Sono in quella plasticotta rigida. Questi. Poi ho questi. che non sono in argento. Però sono quello stile poetico. Belli. Verdi. Con le frangettine. Sì. Poi ho questi che sempre l'ha fatti quella ragazza. Sempre lei. Però sono molto pesanti questi. Infatti sono lì di bellezza. Perché hanno questa pietra che è perla. Sì. È una perla qua sotto. E pesano. vabbè. Questi qua li ho comprati dai cinesi. Però mi piaceva quella gradazione di marrone. Ce ne sono di questi. Se andate dai cinesi ce ne è tantissimi. questi invece che sono stupendi. Questi ci voglio anch'io. Questa è la coppia è uguale. Proprio tutti e due hanno i cuori. Sono fatti così. con questa lavorazione. Sono molto leggeri. Sì. e poi uguali sempre sullo stesso stile. Ci sono questi che è una coppia. Però se vedete sono differenti. Questo ha la forma più ovale. Così. Mentre questo invece è più a ventaglio. però è proprio la coppia. Sono molto leggeri. Poi questi che indosso oggi che sono questi l'ho comprati ieri in un negozio qua. Gli ho pagati 6 euro. Che si chiama questo negozio? Sì, rabbà. Mi piace da morire. Dentro lì mi piace veramente tanto. Le cose sono stupende. Hanno anche loro tutte queste questo genere di cose. Sì. Abbigliamento un po' tutto colorato. Cose di lana. Mastole di cashmere. Cose per la casa. Molte belle. Sì. Cornici di legno. È molto particolare. Un giorno se riusciamo vi portiamo con noi lì. Perché andiamo ogni tanto. Sì, se riesco a chiedergli se posso fare un video. Vi faccio vedere tutto pieno di colori. Sì, è piccolo. Infatti bisogna stare attenti dentro a non far cadere qualcosa perché è tutto molto compatto. Sì. Sì. Sì, molto bello. Io direi che per oggi questi ve li ho fatti vedere perché dopo ne ho ancora e poi ne ho ancora. Lasciando perdere quali vintage che ho che sono a clip. È un altro genere. È completamente un altro genere. Un po' andremo avanti con i video degli orecchini. Sì, questi sono quelli che ho preso oggi per farvi vedere. Spero che voi stiate tutti bene. Grazie mille per... Per gli iscritti, dei commenti. I commenti. I commenti. Come siamo contenti. Ma ce li meritiamo quei commenti di noi. Non lo so. Non lo so, veramente. Siete troppo gentili. Davvero. Ci fate un sacco compagnia. Ci fa un sacco piacere rispondervi. E davvero è bellissimo poter comunicare con voi. Anche lei sta comunicando. È stanca perché parliamoli dà fastidio. Dopo un po' che parliamoli dà fastidio. Sì. E dopo non vedo l'ora di farvi vedere la mia casa. Ve la farò vedere a... Pian piano a locali. A zone. Locale per locale. Non faccio tutto. No. Faccio un locale per locale così vi faccio vedere un po' tutto. Bene. Sì. Adesso abbiamo finito e allora vi faccio vedere un po' tutto. E vi ringrazio di cuore. Grazie mille. Un bacio grandissimo a Mari che lei sa il motivo e sa il perché che la penso sempre e non so come ringraziarla. E... Un bacio a Evelyn e un bacio a tutte le ragazze. A Nadia a Valeria siete tantissimi. A Riccardo Dixi che è un ragazzo che anche lui ha un canale su YouTube ed è carinissimo. E' carino. E' carino, 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 carino. Andate pure a vedere i suoi acquisti che fa. Ottimi. E' davvero. E' tanto carino. Grazie. Grazie. Ciao. Un bacione. Ciao.